c'ho una bella luga ragazzi c'ho paura io oh porco diavolo altro che big foot dalla madonna chi è sta musica chi è chi è no ti prego non mi facci scherzi eh non mi fare questi scherzi per favore non mi dire che è scomparso non mi dire che è sparito Connor Connor cazzo devo fare noi siamo la 11 torre numero 11 qua non ci si capisce una paralisi e mi sa che devo andare a torre 12 no non mi fa andare perché ma che cazzo qua non c'è sta niente qua è tutto a posto come devo pisciare ah c'è scritto proprio che devo pisciare sicuri? dove sta la ladrina cazzo dov'è che piscio adesso c'è il secchio dove sta il secchio c'è un secchio per pisciare? no non c'è il secchio per pisciare devo pisciare fuori che schifo ahahahah ma veramente piscio all'aperto così? wuuu 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 ahahah vai vai annaffia tutto vai ahahahahah c'è nessuno c'è nessuno burco troia ma che è un lupo mannaro? ma chi è? oh cazzo Connor quello è Connor ma quello è Connor ah ma sei andato a fare una passeggiata dai sei andato a fare una passeggiata dai torno a dormire ah praticamente mi sono alzato per pisciare night two ah che bella bevi bevi un po' bevi bevi guarda qua che belli paesaggi ah ok andiamo dentro eh? new guy do you copy? eh? che significa? new gay cioè non ho capito che sono gay nuovo gay ha detto ok ha detto non ho capito questa grafica del retro è troppo bella sì sì lo so ah ci sei? do you copy? ah ok allora sveglio è attivo sì sì ci sto ci sto ci sto come no? copidetta che mi ha detto? son of bitch ah ci stanno le puttane da lui ah 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 ho capito nobody brothers to get camping permit these days eh? che ha detto? ha detto che sono figlio di puttana? mi ha dato del figlio di puttana perché? ma mi sembra tutto normale oi ci sta un fumo c'è la fumo quindi devo riportare quello devo riportare yes sì che lo vedo cioè che dice ita persa to be in the lazily trails sector which is not registered camping site cioè non è is not registered camping quindi non è registrato come camping you mind checking it out? ma porca puttana devo andarci io? ah perché non ce vai tu porca puttana? ah perché ce la devo andare io? ma vaffanculo ma ce stavano i big foot i bambini sono stati uccisi dentro sta cazzo di foresta e ce ne devo andare io di note ho capito devo andarci io vero? chissà che cazzo ci sarà successo là ah lazily trailer qua allora verso di qua devo andare lazily trailer urco di mogno che ci sta scritto qua? caution in aria porca Eva ah ma ce stanno lì stanno gli orsi cazzo uè chi è? che cazzo è successo? no gaming che cazzo è? ma chi è? a testa di cazzo? ma poi c'è nel uozo lo fuoco che cazzo è qua? che cazzo è successo qua? non ho capito cioè qua c'ha dormito qualcuno qua qua c'ha dormito qualcuno poi ha acceso lo fuoco qua purtroppo eh testa di cazzo c'è nessuno? c'è nessuno? allora devo spegni il fuoco giusto? allora fammi un attimo analizza bene se posso prendere qualcosa qua la roba è vicino a fuoco? quale? questa varicetta qua non me la fa aprire ah questa è semplice ah ok qua ho capito devo prendere l'acqua adesso ah da qua vado a prendere l'acqua no? provando a prendere l'acqua qua e poi vado a spegni il fuoco qua cristo ma è tanto semplice ah 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 che ho ancora? posso tornare a casa adesso 9 e 7 del pomeriggio significa as I acted back to my tower through the... ok vabbè noi torniamo a casa no? solo che non c'è nemmeno più la torcia cazzo allora andiamo sopra apriamo la porta qua ok praticamente abbiamo visto una persona lì cioè era una persona che non ho capito andiamo da Connor a parlare qua Connor ci sei? Connor no ma che son of bitch? cazzo tre volte in un mese che scompaiono persone oh io mi so cagato sotto sono sentito un urlo porca troia la storia dei bambini è vera? hai got a contact ok adesso ho contato la durità non aver paura tranquillo di questa commozione prima penso che ti passerà durante la mattina ecco perché c'è avuto una commozione celebrale perché cazzo ha visto ha visto una persona che stava che stava urlando che stava male c'è avuto una commozione celebrale devo stare safe e devo riportare credo ovvero andiamo qua vediamo un po' quanti diciotto ah diciotto gradi diciotto no diciotto quello sotto diciotto nodi poi qua ci sta tipo cinquanta orca puttana cinquanta ma cinquanta è tanto eh cinquanta gradi ma cinquanta punto uno un po' nuvoloso eh si è un po' nuvoloso uno ok quindi io mi chiamo jay sgorcio io penso che posso andare a dormire adesso no ah devo mangiare c'ho una fame della madonna che mangio allora mi serve l'acqua che è queste le panzati ah macaroni non macaroni 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 come se cucinano i macaroni me coglioni se sono buoni ah ok quindi facciamo macaroni mamma mia come cucinano questi inglesi dio santo dio madre dio santo allora che ci metto dentro il pomodoro ma non vedo il pomodoro qua ah che è questo spinaci ok crispotato ah ok niente allora li metto qua no li metto su un piatto dove sta il piatto porca no 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 aspetta marinara vai vai facciamo un po' di chef qua allora praticamente ci sta tutto ci sta ci manca qualcosa un po' di parmigiano parmigiano vediamo se lo troviamo buona mozzarella mozzarella don bernardo mozzarella di bufala campana una madonna se buona cazzo vai mozzarella carne macinata buona no non ce va l'ove l'ove e le uova non ce vanno cazzo uova bio che è qua peperoni peperoni ce vanno una madonna che cazzo è sta roba ah buoni comatori latte ce va il latte beh dai oh almeno sta cucinata dai siamo pronti vai che si inforna vai si chiude ci sto ci sto ci sto ha detto che fa tutto bene ha detto che praticamente ci sta non ci sta niente ha detto che abbiamo fatto un ottimo lavoro abbiamo fatto allora tower 12 singing of over and out che significa over and out che significa passo sborro in culo oi pronti mamma mia se buone hai la che ma come se rimagna sul letto non ci credo mai nella vita macaroni magna magna che è tutto buono magna 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 che la troia macaroni pomodoro un po' che ci abbiamo messo dentro mozzarella di bufala campana ci abbiamo messo ok ah ok dentro il frigo posso andare a dormire is what the jet in cold talked i jet would ah ok devo andare a prendere la legna di nuovo andiamo a prendere la legna certo con sto freddo chi cazzo c'ha voglia di dormire col freddo io no 10 gradi 10 gradi ma quanto caldo fa la legna questa scalda quella piccola stufetta scalda poi non mi sembra che abbia andata come stanza non mi sembra che abbia andata sembra una stanza molto fredda cazzo scopriamo presto gli do un po' di un po' di benzina qua fai vai vai fumi tossici vai vai che se dorme che bella dormita che ti fai adesso ah devo chiudere le cose fuori cazzo che l'aperte porca puttana cazzo mi sa che piove pure altro che no no mi sa che domani piove poi qua in montagna eh non è detto eh che in montagna di solito piove piove del brutto eh spengo la luce buonanotte le 2 e 20 del mattino quindi pomeriggio no della mattina che è ai uo su uo che è un cadetto che sentiva fischiettare qualcosa oh oidoclaw chi è c'ho la pelle loca ragazzi c'ho paura io avevo paura a me queste cose c'ho paura ragazzo oh no che me stai a fare uno scherzo oidoclaw questo video è gentilmente offerto da level up una bevanda energetica pensata per i gamer e di altissima qualità povera di zuccheri facile da preparare apri lo shaker acqua metti un misurino shaker e gusta a meno di un euro a porzione con il codice sconto panno link in descrizione raga no vabbè io c'ho pure questa roba no ragazzi io me la sogno la notte porca troia sta roba no sono i miei incubi ragazzi non è o la madonna di dio ma chi era lukukus clan nasconditi nasconditi ma chi è il microfono qua perché già hai un microfono hello aiutami oh posso sentire il microfono cazzo ma che cazzo devo fare adesso devo aprire la porta che devo fare ma colu cazzo che ho testo in gula io me nascondo sotto un letto ma chi cazzo te l'ha visto mai oh i diocro devo uscire fuori ma io chiamo aiuto there is sometimes aiuto mi dio aiuto mi dio ci sta una porca puttana c'è un uomo nero di fuori che mi vuole amazzare a me vuole ma un rituale di merda cazzo ma come domani porca deva domani porco e adesso devo aprire la porta che cazzo è ma è una roba del satanismo qua ma io dormo con la luce scesa vaffanculo si terza notte ma chi dorme ma io già da un pezzo che era andato via il giorno dopo 8.34 8.34 che cazzo è qua ma devo pulir bene magari non si vede bene cazzo ne so tutto sporco questo cazzo di cannocchiale tutto zozzo quello è un segnale d'aiuto quello è un segnale d'aiuto un S.O.S cazzo un S.O.S che è successo ha detto che ha esplorato l'area di fuori e ha perso l'ora tipo ha detto che si è perso come si è perso dovinate un po' chi è lo stronzo che deve andarlo a salvare il sottoscritto sicuro I am wearing a red jacket quindi c'è una rossa camon pants camon pants non so che sia vabbè una giochetta rossa camon pants and green backpack quindi c'è un ruzzinetto verde poi c'è un flash light e ha tirato parecchi segnali di aiuto ma nessuno ci è andato a salvarlo quindi ha detto che c'è paura tipo che qualcuno gli viene fuori all'improvviso che cazzo hai visto no dove c'è scritto che non voglio aiutare ma vanno a destra porca droga l'ho trovato che culo you are welcome I hear you cioè dove cazzo stai that's not me esatto non so io chi è Dio ma io mi vado a nascondere sotto il letto oh bacchite se in cuna oddio oddio chi è chi è chi è porca droga ma vaffanculo cazzo e rispondi di che sei tu eh non so quello che cazzo vuole ha detto che ha sonato qua bussato per ore ma nessuno gli ha risposto what were you doing last night che? non ho capito che cazzo voleva non ci ho capito un cazzo vabbè grazie mille per upacco grazie mille per upacco e vaffanculo guarda e come cazzo si apre questo? torno a dormire ah ok quindi c'ha sonno però certo è una certa ora ah ok quindi devo riportare il coso per la notte andiamo a vedere quanti gradi sono all'aperto 23 nodi bello potente eh 23 nodi è bello ah c'ha paura ah c'ha paura ragazzo ok 23 23 nodi quanti gradi sono? 55,6 55,6 0 scusami come cazzo è? misto scusatemi come cazzo è? non è nuvoloso? beh allora tira un vento della madonna ma non piove no c'è vento ok vai andiamo a dormire e poi questo è tratto da una storia vera una storia vera con il teschio di fronte alla porta con uno che io ma è fuori da testa dai impossibile non esiste ah pure la legna adesso certo la legna ma io quasi quasi vado vado a dormire così con il freddo che cazzo me ne frega vabbè è un po' romanzata tarrata ma no imbecilia di merda testo di cazzo come cazzo te chiami? Silias ma vaffanculo ha detto che c'è stato un disastro naturale non ho capito far well far well vaffanculo Jack ah Jack va te la pianta il culo ah il vento ha buttato giù l'antenna ecco perché manca il segnale vai si c'è stato ecco me si c'è stato ah non ci sono altri snooper c'è altri aggiornamenti altre notizie credo snooper vabbè c'è stato un aggiornamento come si aggiorna? devo aprire il cmd help chqpd cioè che devo scegliere? 54 16 10 45 54 87 devo scrivere che cazzo è successo? è andato a offre la connessione è andato a offre la connessione porca Eva madonna ma sai che paura con sta pioggia poi run out of gas il gas dove rupi io? cazzo c'è stava la torcia qua il gas che è questo il gas? no ma come cazzo si accende dio padre? ah la benzina è uguale va bene? bene lo stesso la benzina? beh certo il gas non è gas è la benzina certo il gruppo elettrogeno va con la benzina vai torniamo su ma chi ti sengula? ma one week later cioè una settimana dopo the time was flying by 2.30 del mattino dopo no della mattina della notte ma che coglioni ma sto a dormire ma mi pareva un po' di coglioni sto a dormire ma ero a torcazzo porca puttana ma che cazzo vuoi porca Eva dice che non c'ho energie ma che ha detto non ho capito ma questo sta tutto fuori le testa che cazzo è? dove se c'è fuoco si che c'è fuoco oh porco diavolo oh porco diavolo altro che big foot della madonna ma è una seta satanica cazzo corri oh cazzo che te sei in c***a poi no nascosta sotto il letto sotto il letto sotto il letto sotto il letto zitto cazzo zitto non parlare zitto non parlare zitto mutate porca Eva zitto ma chi è? a me leva il microfono no eh oddio che paura zitto non respira non respira zitto 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 non respirare stai zitto muto muto vabbè dai aspettiamo ma io sto qua e che cazzo si muove sarà una gara a chi dorme di più adesso che ci penso oh una figata mamma da corri 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 Nonoi nonoi porco YEEEEE Non è dai dai Non è vero dai ma era chiusa la porta No è male ha chiusa Si ma il flash è obbligatorio Il flash e poi 100 di iso Ma usane di più cazzo Eh grazie al cazzo che ti vede Questo Via via Nascondete sotto Mutate porca Eva Amma merda Amma merda Ma che faccia da cazzo No io mi muto ragazzi Io mi muto Lavo il microfono Io levo il microfono Ma col cazzo Che ti sengula Amma merda Esco fuori Corro Ce l'ho fatta A pezzo di merda Va a trappiare nel culo Cornuto del cazzo Vaffanculo torna sulla confraternita E satanisti dio No Che vuoi da me Devo uscire fuori e corre E devo corre 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 Ma chi dà c'è in culo Cornuto Corre Ma va a fangulo Porca puttana Corre cazzo Corre Apri Corre Corre Apri Chiudi Corre Apri Chiudi E parti Vai Vai I hit the gas and drove to the master ranger cabin Quindi forse era tutto dentro la sua testa The unies still sits in my stomach Haven took many years have passed the experience still feels vivid in my memory Se qualcuno di voi va in quel campo Please be safe State safe Cioè state Ah E sta musichetta per finire proprio Che cazzo è Ma che è sta musichetta La grafica è apprezzabile Qualche parasi secca me la fatta prende Horror È bello horror Tratto da una storia vera Per me ragazzi È un dieci